Musica Nel pieno dei festeggiamenti per San Giuseppe, le sue mense e in occasione del 17 marzo, giornata dedicata a Unità Nazionale, Costituzione, Inno d'Italia e Bandiera Tricolore, è stata festeggiata a Borgetto la rinascita del Monumento ai Caduti. Un intervento a costo zero per le casse del Comune ed effettuato grazie ai fondi, al lavoro e all'impegno personale dei fratelli Giambrone, titolari di una ditta che lavora alla pietra. Per l'occasione è arrivata pure la fanfara dei bersaglieri di cui fanno parte i due stessi fratelli e un altro borgettano. Non è stata di fatto una coincidenza farla proprio oggi, questo restauro e inaugurazione, chiamiamolo come vogliamo, proprio perché dobbiamo dare un simbolo ai ragazzi, un simbolo ai nostri concittadini e trasmettere le volontà positive che abbiamo da parte nostra a tutti i ragazzi principalmente, anche ai più grandi e a chi ha seguito le fasi della vita del nostro Comune. Oggi è una giornata che racchiude tutti gli aspetti che abbracciano i valori dell'Italia. Abbiamo ricordato l'unità nazionale con l'alza bandiera, abbiamo reso onore alla memoria dei nostri caduti, deponendo la corona da parte del Comune ai caduti. I ragazzi, i bimbi delle scuole hanno partecipato attivamente a questo momento lasciandoci delle parole semplici ma assolutamente efficaci, tante poesie che hanno dato però e aperto a spunti di riflessione importanti. Dobbiamo con gioia fare tesoro di questi momenti di incontro, sempre in un'ottica del sentimento di unità nazionale, di quello che la nostra bandiera rappresenta in termini valoriali e nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per le nostre libertà. Ci siamo spesi per ristrutturare questo monumento, uno perché Borgetto merita tanto. I nostri caduti è giusto che vengono ricordati e riportare allo splendore quello che era il monumento caduto. Diciamo che ci avete lavorato, tu e il tuo fratello, diciamo in maniera gratuita. Noi abbiamo regalato questa opera al Comune di Borgetto, per una cosa nostra, personale, vogliamo lasciare un segno. Uno, ricordare, ripeto, nuovamente caduti, due, lasciare un segno a Borgetto e cercare di far andare avanti il Comune di Borgetto in una certa maniera, nel suo fascino che realmente lo contraddistingue. Che significa fare parte pure dell'Associazione Nazionale Bersagiere della Fanfarra? Allora, fare parte della Fanfarra dei Bersagiere significa una famiglia, perché veramente noi giriamo lungo e largo in tutta Italia, questa cosa ci fa onore e lo facciamo veramente con piacere.